Oggi vedremo quanto dura la batteria dei nostri telefoni, iniziamo con l'iPhone, ok, 100%, via, finita, poi troviamo il Samsung Huawei Iniziamo al 2%, 1%, Nokia, oddio questo sarà un po' difficile E infine abbiamo il telefono cinese, prima di continuare saluto 5 persone a caso che mi hanno seguito su Instagram Ricordatevi che domani saluterò altre 5 persone, quindi seguitemi subito, ok, la batteria va, tutto normale, niente Esplosa